Se la percezione occidentale del Made in China si limita spesso all'etichetta di un indumento a basso costo, grazie al maestro dell'osservazione documentaria Wang Bing, questa è immediatamente smentita e rivelata attraverso un viaggio esperienziale nell'alienante catena di montaggio dell'industria manifatturiera tessile del suo paese, che trova il centro propulsore nella regione rurale presso Tsili, a 150 km da Shanghai, dove sopravvive, sfruttato, un popolo di oltre 300.000 lavoratori provenienti da ovunque, costretto a vivere nei laboratori alveari dove c'è taglia senza sosta, dietro a compensi imbarazzanti da negoziare di volta in volta con i manager locali. Titolato Queen Chung, che significa gioventù, qui segue il no poco provocatorio sottotitolo Spring, cioè una primavera che di fatto non esiste, si tratta di un mastodontico film testimoniale di tre ore e mezza, che non solo ha il compito di far conoscere il modus vivendi di queste persone, specie dei giovani posti al centro dello sguardo, ma soprattutto di immergere lo spettatore nella loro estenuante esistenza, prona al lavoro accottimo, alla quale sono certamente abituati, ma da quanto evidenzia il film sul finale, da cui vorrebbero emanciparsi. Per l'intera durata del documentario ad accompagnare la visione perpetua di giovani, operai e operai, è la sensazione di stordimento, dovuta al rumore assordante delle loro macchine da cucire, mescolato alla musica ma anche ai dialoghi, in quel tipico chiacchiericcio giovanile dove parole e gesti si mescolano e confondono, tra un corteggiamento e una lotta giocosa, con gli smartphone onnipresenti ad aumentare un'alienazione già fatale. A regnare nelle baraccopoli private da qualunque misura igienico-sanitaria è il caos, in un'estetica che traduce l'etica delle precarietà ad ogni livello esperienziale. Wan Bing, che già aveva esplorato questo universo nel 2016 in Bitter Money, con Quinchun intende approfondirlo ancora più intimamente ed estensivamente, avendo qui compiuto il classico suo pedinamento di matrice zavattiniana per ben cinque anni, da 2014 al 2019. Un progetto monstro, ontologicamente indigesto, ma eticamente necessario, che troverà compimento con una parte ancora da montare fino a raggiungere le nove ore di film.